Le ricerche di Giorgio Lanciotti, l'escursionista disperso da sabato sul Gran Sasso, non hanno ancora dato risultati. Anche ieri nel terzo giorno di operazioni, sia aeree che via terra, i soccorritori non hanno trovato tracce del 35enne residente a Pineto, scomparso dopo aver raggiunto la vetta orientale del Corno Grande. Le squadre dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Pietra Camela per il quarto giorno sono tornate in quota dalle prime ore di oggi alla ricerca del giovane. I soccorritori stanno valutando anche la possibilità, condizioni meteo permettendo di far ricorso a droni con metal detector per individuare tracce metalliche che aiutino a rintracciare il giovane scomparso. Da ieri sono entrate in funzione anche le unità cinofile specializzate nella ricerca in alta montagna. Le indagini sono state concentrate nella zona tra i 2400 metri del Franchetti e i 2900 della vetta orientale, dove Lanciotti ha postato l'ultima storia su Instagram prima di riprendere il cammino verso valle. Questo perché se fosse riuscito ad arrivare più sotto del Franchetti, molto probabilmente sarebbero state rinvenute tracce del suo passaggio, visto la vastità del territorio setacciato dai soccorritori. Dunque, essendo la zona tra i 2400 e i 2900 metri più ricca di zone nascoste alla visuale degli elicotteri con crepacce e pareti di accentuata pendenza, l'ausilio di mezzi tecnologici come i droni ai quali agganciare metal detector per rilievo di oggetti potrebbe offrire un aiuto in più alla macchina dei soccorsi. Tutto questo però meteo permettendo.